Quindi lascio volentieri la parola a Fabio che ci parlerà di com'è andato l'ultimo Consiglio Comunale. Grazie Roberto, buon pomeriggio a tutti. Io sono Fabio, come vi diceva appunto Roberto, e insieme ad Alice sono i rappresentanti di Nostradalmine in Consiglio Comunale, quindi in questo mese c'è stata un po' la ripresa dei lavori e dell'attività in Consiglio Comunale, anche se con una forma chiaramente molto inedita, perché siamo stati convocati in maniera telematica, quindi abbiamo svolto il Consiglio Comunale completamente da remoto, a distanza. Devo dire che è stata anche un'esperienza molto positiva, nel senso che i lavori sono proceduti con una certa fluidità e senza particolari intoppi, quindi sicuramente un'esperienza molto positiva che si potrà ripetere in futuro, anche non in una situazione emergenziale, qualora venissi alla necessità magari da parte di uno o più consiglieri non a disposizione fisicamente. In Consiglio Comunale si è parlato di molte cose, però stasera ve ne accenniamo solo alcune, in particolare uno degli argomenti all'ordine del giorno più importanti è stato la variazione di bilancio, che ha riguardato i fondi che sono stati ottenuti da parte del nostro comune, erogati da Regione Lombardia, dallo Stato e da altri enti privati e pubblici. In questi fondi sostanzialmente hanno consentito al nostro comune di avviare una serie di opere che appunto avranno impatto nel nostro comune nei prossimi anni. Sostanzialmente come Nostradalmine abbiamo, insomma aveva fatto le domande di rito per quanto riguarda la destinazione dei fondi per queste opere e abbiamo lavorato soprattutto sul concetto dei buoni spesa che sono stati erogati da parte dello Stato verso appunto il nostro comune. In particolare abbiamo richiesto i criteri che sono stati utilizzati per quanto riguarda appunto i buoni spesa. Le risposte sono state parzialmente soddisfacenti in quanto sicuramente sono stati adottati dei buoni criteri per quanto riguarda l'ambito di Darmine, ma è mancata una vera e propria stima matematica precisa che consentisse a tutti in modo preciso ed univoco appunto di erogare questi fondi. Detto ciò fortunatamente non si sono verificate grosse problematiche a Darmine nel senso che addirittura si è avuto un risparmio di circa 8.000 euro sui fondi erogati dallo Stato che verranno poi riutilizzati per le utenze. Notizia nuova, visto che la delibera è stata pubblicata due giorni fa, le utenze di luce e gas da parte delle famiglie che ovviamente hanno difficoltà purtroppo in questo periodo a pagarle. Dopodiché in Consiglio Comunale si è parlato di una novità importante per quanto riguarda le associazioni e gli enti del terzo settore, nello specifico la modifica al regolamento delle associazioni. È una modifica molto importante perché introduce nel nostro comune l'albo dei volontari singoli che è un'innovazione già presente in altri comuni e che serve moltissimo. Per esempio in questa emergenza, se ci fosse stato un albo dei volontari singoli, sarebbe stato tutto molto più semplice e fluido nella erogazione di alcuni servizi come i pasti a domicilio, la spesa a domicilio, che sono stati fatti tramite l'intermediazione di Avis, dell'Associazione dei Volontari per la Donazione del Sangue. Ecco, introducendo questo albo di volontari singoli che vengono poi tutelati a livello legale e assicurativo dal comune, tutto diventa più semplice, il comune stesso a garantire, a fare da garante per chi si iscrive e a organizzare i lavori di volontariato che sono necessari sul territorio. Una bellissima cosa, quindi invitiamo sicuramente tutti i cittadini che vogliono fare del volontariato senza troppo impegno per il nostro comune ad iscriversi a questo albo così che possano dare la propria opera per il nostro territorio sulle tematiche loro più affini. Infine, l'argomento, diciamo, cardine per quanto ci guarda è stata la risposta ad alcune interrogazioni che avevamo posto negli scorsi mesi rispetto chiaramente alla gestione del coronavirus e di tutto quello adesso connesso, quindi sostanzialmente avevamo richiesto diverse informazioni, alcune ci sono arrivate come risposta a delle interrogazioni scritte, come il numero dei contagi, il numero dei contagi nell'RSA, quindi tutta una serie di dati numerici su cui abbiamo voluto avere una panoramica più precisa e dettagliata ed ufficiale dal nostro comune. In consiglio comunale, invece, abbiamo discusso tematiche un pochino più politiche, diciamo così. Per esempio, un'interrogazione è stata dedicata al servizio di spesa a domicilio per anziani e per persone soggette ad una quarantena, adesso non mi viene il termine tecnico, chiedo scusa, servizio che è stato molto proficuo nelle ultime settimane e che naturalmente ora ha una caduta naturale di volontari dal momento che i volontari hanno ripreso tendenzialmente le loro attività lavorative o universitarie. Detto ciò, anche in questo caso abbiamo avuto delle rassicurazioni importanti visto che ad un affiancarsi di questa riduzione di volontari c'è anche sicuramente una riduzione molto forte delle utenze, abbiamo avuto numeri più precisi poi negli ultimi giorni a completamento e sicuramente la situazione è sotto controllo e di questo siamo molto contenti. Ne approfittiamo chiaramente per fare un ringraziamento ai volontari delle spese visto che sono stati numerosissimi e hanno fatto un lavoro davvero eccezionale nel nostro territorio. Altra interrogazione è quella riguardo all'utilizzo delle mascherine in casa c'era il comune che aveva mandato una raccomandazione al 10 di aprile riguardo all'utilizzo delle mascherine in casa invitando la popolazione tramite le parole di un noto epidemiologo ad utilizzarle nel proprio domicilio avevamo un po' sorto il naso di fronte a questo avvenimento visto che chiaramente già le mascherine soprattutto il 10 di aprile erano praticamente introvabili sul nostro territorio figuriamoci utilizzarle in casa cosa che peraltro non era nemmeno stata prescritta in via ufficiale dall'Istituto Superiore di Sanità o da altri enti come ATS in ogni caso l'amministrazione non ha ritrattato la propria posizione avevamo chiesto una rettifica o comunque un confronto tramite una lettera a cui non abbiamo avuto risposta nell'interrogazione che è seguita appunto in consiglio comunale il comune per via del sindaco Bramani ha sostanzialmente ritenuto la propria posizione come legittima visto che la maggior parte dei contagi è avvenuta nel domicilio questo sicuramente è vero ma non è vero il fatto che l'utilizzo della mascherina in casa fosse una prescrizione da comunicare alla cittadinanza anzi questo ha generato sicuramente parecchia confusione infine abbiamo svolto un'interrogazione urgente che è stata effettivamente accolta dal Presidente del Consiglio Comunale Terzi e che ci ha permesso di smarcare un tema molto importante sul nostro territorio quello dei centri ricreativi estivi è stato un tema che sicuramente non ha la sua conclusione nella saluta del Consiglio Comunale dello scorso lunedì è chiaro che è un tema fondamentale e qual è? il tema è proprio il fatto che con la chiusura delle scuole tra circa una settimana, dieci giorni bambini e ragazzi di tutte le età non avranno di fatto più un'occupazione durante la giornata e questo si insomma al fatto che i genitori tendenzialmente o sono a casa lavorare o sono rientrati addirittura presso le sedi lavorative quindi c'è effettivamente una tematica molto forte di impiego del tempo i CRE così come li conoscevamo parrocchiali o privati che dir si voglia sicuramente non potranno essere confermati quest'anno nella loro forma ordinaria quindi è importante capire se l'amministrazione anche attraverso i fondi che verranno arrogati dallo Stato o a questo principio scopo si farà garante di una offerta culturale formativa e sociale sul territorio ad oggi l'assessore vice sindaco Iodice che ha delega alla pubblica istruzione e alla cultura ci ha informato che le parrocchie sono ovviamente in costante aggiornamento rispetto a questo tema ma che oggi tuttavia hanno dichiarato la loro indisponibilità a fare dei CRE purtuttavia hanno dichiarato la propria disponibilità in termini di spazi ovvero concederanno se il comune vorrà farsi carico di un progetto gli oratori per questo scopo ad oggi Iodice comunque ci ha informato di essere in contatto con tutta una serie di attori privati e pubblici del territorio ma ancora non si hanno delle notizie definitive devo dire personalmente ringrazio a chi in questi giorni ci ha stimolato su questo argomento che è un argomento ovviamente fondamentale e su cui ci terremo sicuramente aggiornati ad esempio martedì c'è la cerimonia del 2 giugno la mattina e quindi avremo modo di riconfrontarci nuovamente con Iodice per capire se ci sono degli sviluppi chiaramente fateci tutte le domande che ritenete tramite i commenti e questa live vi risponderemo al termine sono molto felice se avete qualche curiosità specifica sul Consiglio Comunale e su alcuni degli argomenti che ho trattato ma in questo momento lascio poi la parola agli altri argomenti ok grazie Fabio per il riassunto del Consiglio Comunale